Si sarebbero resi protagonisti diliti, aggressioni e violente risse durante una delle quali addirittura sarebbero volati in aria, tavoli e sedie in un locale, seminando il panico nel centro storico Aretino. Adesso sei giovanissimi, di cui uno minorenne, sono stati identificati e denunciati all'autorità ordinaria e minorile, dovranno rispondere di rissa, danneggiamento e percosse in concorso. Il primo episodio risale al 18 dicembre, la miccia che avrebbe scatenato la violenta rissa sarebbe stato un banale diverbio avvenuto all'interno del bagno di un locale. A seguito di uno spintone involontario ricevuto, uno dei ragazzi poi denunciati avrebbe cominciato ad inveire contro un coetaneo e avrebbe poi chiamato in aiuto un gruppo di amici per regolare i conti. A quel punto la situazione sarebbe diventata incandescente. Il gruppo di ragazzi avrebbe anche spintonato il titolare e gli addetti della sicurezza che tentavano di sedare la rissa, poi l'arrivo delle forze dell'ordine e la fuga dei ragazzi. Adesso sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile della questura di Arezzo. Alcuni di loro avrebbero anche partecipato alla violenta aggressione nei confronti di un sessantenne che si era consumata qualche settimana prima in piazza Sant'Agostino. Sono in corso adesso ulteriori indagini volte a risalire a responsabilità penali di questi giovani in relazione ad altri episodi simili avvenuti a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del nuovo anno.